Stallo! Stallo! Ma che succede? Stallo! Un A-330 Qantas va improvvisamente impicchiata sull'oceano indiano. E poi, boom! Ho colpito il soffitto e sono svenuto. 119 tra passeggeri ed equipaggio sono teriti. Mayday, Mayday, Qantas 72 tirotta verso... I piloti cercano di governare l'aereo in avaria. Eravamo nei guai. Non sapevo perché l'aereo si comportasse così. Stallo! I freni non funzionano. Stallo! I spoiler non funzionano. Stallo! Neanche il computer uno. Nel nostro manuale operativo ci sono procedure per una situazione simile. Pensavo che non saremmo sopravvissuti. Vieni, vieni, vieni! Herice 1�jiro, to steady... An Exactly 3-035Choetto, 222, ho PARTI. Però io